Il Qatar è stato scelto come piattaforma di lancio di questo ambizioso e importante progetto commerciale tra col diretti e l'Uru, che porterà all'apertura di aree permanenti di esposizione e di vendita di prodotti italiani col diretti, non solo nei 10 ipermercati l'Uru in Qatar, ma gradualmente nei 150 punti vendita dell'intera catena l'Uru. Questo accordo rappresenta un prezioso strumento per accompagnare i nostri produttori su questo mercato e su altri mercati esteri e per rispondere alla crescente domanda di prodotti alimentari italiani di qualità, consolidando il trend positivo delle nostre esportazioni di settore registrato nel 2018. Sono orgoglioso di ricordare che l'export agroalimentare italiano nel mondo ha raggiunto un nuovo record nel 2018. ha toccato, pensate, la quota di 41 miliardi, quasi 41,8-42 miliardi di euro. La crescita ha riguardato anche le esportazioni verso il Qatar, aumentate a giugno del 2018 del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma il potenziale è ancora elevato. Noi siamo molto ambiziosi come sistema paese e quindi siamo fiduciosi che continuerà a crescere questo nostro export. Il Qatar sta realizzando con successo ambiziosi piani di sviluppo del settore agricolo e di diversificazione delle importazioni agroalimentari. L'Italia è lieta di essere inclusa e di essere partner in questo processo con un modello distintivo di agricoltura e di lavorazione agroalimentare che, se mi permettete di dirlo e di rimarcarlo, si distingue in tutto il mondo per innovazione, per sostenibilità. Quella che inizia oggi tra continente l'Uno è una partnership non dettata esclusivamente da target commerciali che pure sono compresi ovviamente per l'obiettivo ma che è improntata ancora più al comune obiettivo di promuovere uno stile di vita sano ispirato ai principi della dieta mediterranea che nasconde una ricca cultura e di rendere i prodotti alimentari di alta qualità accessibili a prezzi competitivi per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Si tratta di un approccio che è condiviso dal Qatar che è in linea con gli obiettivi del Qatar National Vision 2003 un approccio di attenzione alla qualità, alle persone che ha avuto modo anche oggi di condividere durante l'incontro con i colloqui avuti con sua altezza l'Emiro Sheikon Damilmin Hamad Altani l'Italia da sempre riserva una particolare attenzione agli aspetti di tutela della salute la salute dei consumatori i prodotti delle aree col diretti che sono tutti certificati 100% made in Italy sono il risultato dell'eccellenza di piccole e medie aziende agroalimentari italiani che operano nel rispetto dei più elevati standard di qualità, di tutela dell'ambiente e di tutela del consumatore auguro davvero di poter apprezzare questi prodotti buon appetito a tutti e ottimo successo il migliore successo o spicci di successo a questa iniziativa grazie 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 a tutti.